È stata una raccolta di fondi tra cittadini promossa dalla signora Grazia Salvezza in compagnia della famiglia di Anna Borsa a consentire la realizzazione del murales dedicato alla ragazza uccisa dall'ex fidanzato a Ponte Cagnano Faiano a marzo del 2022. A realizzare il murales l'artista Mario Farina che ha completato questa mattina l'opera nella cerimonia di inaugurazione che si è svolta nei giardinetti davanti alla stazione ferroviaria della cittadina di Ponte Cagnano Faiano anche davanti agli alunni dell'istituto comprensivo Picenze e dei rappresentanti delle istituzioni cittadine a rappresentare la famiglia di Anna Borsa, il fratello Vincenzo. Per me gli occhi di Anna su questo murales devono essere gli occhi di ogni donna, gli occhi della violenza, gli occhi di questa brutale vicenda che si sente ogni giorno. Per me il femminicidio è un lupo nero e l'ho provato sulla mia pelle per mia sorella. Oggi voglio dire ancora una volta a tanti uomini che tutto questo si deve fermare perché una donna va amata, rispettata e ha bisogno della libertà, della spensieratezza. Ci puoi raccontare come è venuta questa idea e come l'ha realizzata con il contributo di chi? Allora, l'idea è venuta, l'ho sognata d'Anna dopo poco che è morta e la mia visione è vedere vicino a una parete il volto di Anna. Ho tenuto nel cuore questo progetto e ne ho parlato con Enzo quando diciamo se erano un po' non calmate le acque perché il dolore è sempre infinito, al momento giusto. Ad agosto abbiamo iniziato insieme questo percorso. All'inizio devo essere sincera non pensavo che era un percorso tortuoso perché purtroppo è stato abbastanza tortuoso ma fortunatamente c'è stato anche un percorso di discese e quindi c'è gente che ci ha contattato privatamente perché non sapeva come aiutarci nel dare il contributo e gente inaspettatamente che ci chiudevano le porte in faccia. Questo ci ha molto deluso entrambi. Spesse volte eravamo anche propensi a voltare pagina e mollare, però lui diceva no grazie dobbiamo andare avanti. Nei momenti che lui diceva grazie mi sono stancato perché ci sono dicerie, hanno sfruttato anche questa cosa per dire tante cose brutte sulla vicenda e non immedesimarsi nel dolore delle persone care. Il murale si è stato realizzato anche a pochi passi dal centro antiviolenza dedicato sempre alla memoria della parrucchiera uccisa. Nato a settembre del 2023 il centro antiviolenza ha già 120 richieste d'aiuto, l'ultima delle quali è arrivata al centralino proprio mentre era in corso la cerimonia di inaugurazione del murales. Il centro antiviolenza è costantemente operativo perché purtroppo riceviamo telefonate in continuazione anche durante la reperibilità H24. Il nostro lavoro richiede una presenza costante sul territorio e una risposta che tutte le operatrici del centro estremamente altamente formate sulla violenza di genere cercano di dare alle donne che a noi si rivolgono. I numeri purtroppo sono preoccupanti e danno proprio lo specchio di un fenomeno così allarmante e dilagante. Basti pensare che noi abbiamo aperto il centro dal 1 settembre 2022 e ad oggi accogliamo oltre 120 donne. Questo dato ci dà proprio il senso di quanto lavoro ci sia da fare ma nello stesso tempo è un monito perché ci fa capire che le donne pian piano riconoscono la nostra presenza sul territorio e quindi è importante che si rivolgano ai centri antiviolenza per essere aiutate. In questo momento si discute di una legge che può aiutare le donne vittime di violenza a trovare lavoro perché l'autonomia economica è una chiave di volta per poter trovare anche la forza di denunciare. Lei cosa ne pensa? È assolutamente un dato importantissimo. Noi ci battiamo sempre affinché l'intervento che noi offriamo alle donne non sia soltanto quello di sostegno ed elaborazione della violenza ma poi permetta alle stesse di raggiungere una concreta autodeterminazione. Sicuramente l'aspetto economico è la chiave di volta perché molto spesso le donne restano incastrate nei meccanismi di violenza proprio perché non avendo una capacità, un'autonomia economica non riescono a potersi liberare dai meccanismi di violenza. Quindi sicuramente interventi strutturati che consentano alle donne di avere delle risorse economiche e le possano sostenere sotto questo profilo sono fondamentali per garantire a pieno la libertà rispetto ai meccanismi di violenza di cui sono vittime. Grazie. 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 Grazie.